ma la sentiamo signora? la senti per forza quattro e mezzo 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 no perchè sta quattro a mezzo madonna mia mamma mia quattro e mezzo se gli fai così non morire quattro e mezzo 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 Gli piace più sul tono della faccetta nera. Perché faccetta nera gli piace, gli mortacci del fascista piccolo e nero. Eeeh quattro e mezzo. Non ti piace più a te. No, sto stufato. E cicci, bebe. C'è chi? No, non gli piace. Quattro e mezzo. Saluta i partecipanti. Quattro e mezzo. Saluta tia. Mattia. Così saluti te, no. Mattia. Guarda qua. Quattro e mezzo. Però aspetta, guarda. Quattro Butzio. Ehilterra. 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 Foto e Saluta.